Un saluto ai miei allievi di seconda e naturalmente dopo aver affrontato Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio parliamo di Michelangelo. Leonardo, Raffaello e Michelangelo rappresentano i tre più importanti artisti del rinascimento maturo passati alla storia pensate ragazzi semplicemente con il loro nome quando si dice Leonardo, Raffaello e Michelangelo tutti pensano subito ai tre grandissimi artisti senza nemmeno andare a citare il cognome. Questo dice molto della fama e della bravura di questi tre forse più importanti artisti di tutte le epoche. Noi andiamo ad affrontare Michelangelo che era profondamente diverso da Leonardo e da Raffaello anche se sappiamo che questi tre artisti si sono studiati molto da loro, erano in competizione e al contempo segretamente si ammiravano. Al solito passo alla presentazione e vi saluto da video. Proseguiamo con le parole e le immagini. Al solito come primo passo abbiamo una mappa, la vedete qui, una mappa che riassume l'attività di Michelangelo che è stato scultore, pittore e pensate anche architetto nella realtà. Quindi possiamo dire che rispetto a Raffaello che è stato sostanzialmente un pittore e a questo si è dedicato per tutta la vita, in gran parte si è dedicato a questo, esclusivamente a questo. Qui abbiamo invece un artista che è stato sia scultore che pittore e anche un importantissimo architetto nella fase finale della sua vita. Quindi grande poliedricità si usa questa parola per dire che era capace di fare tante cose differenti. Qualcosa che lo collega anche a Leonardo che come abbiamo visto era un appassionato di scienza, non solo di scienza, ma di scienza in molte forme differenti dall'anatomia alla zoologia. Quindi un uomo capace di affrontare l'arte da diversi punti di vista. Vediamo elencate alcune delle sue opere più importanti, la Pietà, il David, Mosè e in basso vedete un particolare dalla Cappella Sistina sulla mappa. Prima di saltare alla successiva diapositiva torno qui per parlare del David. Per parlare del David, conservato all'Accademia di Firenze, quindi perché siamo partiti dalla scultura per affrontare Michelangelo? Perché Michelangelo si sente scultore, si è sempre sentito scultore e anzi abbandona la bottega del Ghirlandaio, si parava il mestiere di pittore andando a bottega, non diventa maestro di pittura, di pittura, abbandona la bottega del Ghirlandaio perché non si sente pittore, ma scultore. Lo nota il giovanissimo Michelangelo, viene notato da niente po' di meno che Lorenzo Magnifico, che non era solo un nobile, ma era anche a sua volta sicuramente una figura geniale, capace di vedere immediatamente il talento negli artisti, una dote non indifferente. Quindi vedere il talento non si limitava a vederlo, manca a promuoverne la carriera. Quindi invita Michelangelo a corte e lo fa studiare sulla sua collezione di statue. Ecco, e lì si forma proprio, sono gli anni di formazione e di studio di Michelangelo alla corte dei medici sotto la protezione di Lorenzo Magnifico. Quindi diventa una figura di cui purtroppo non possiamo parlare a lungo, ma che è fondamentale come si direbbe oggi come talent scout, cioè come persona capace di vedere dei giovani di grande talento. Il Davide dice anche qualcosa su Michelangelo che non cercava quella perfezione, quell'armonia delle forme che è caratteristica di Raffaello. Guardate queste mani molto grandi, anche quella abbandonata sulle cosce, come è una manona, se mi passate questo termine, perché preferiva l'armonia e la perfezione, preferiva la potenza espressiva. Quindi siccome David abbatte Golia con una fionda che ha appoggiato sulla spalla, le mani sono il mezzo attraverso cui David andrà a colpire e ad uccidere poi Golia. E quindi in questo racconto, all'interno del racconto, le mani sono importanti. Ecco perché Michelangelo le sottolinea come. E questa diventerà una caratteristica di tutto il suo lavoro artistico, cioè dare forza all'espressività più che, diciamo così, alla bellezza idealizzata. Ecco, qui vediamo invece qualcosa che quasi subito contraddice quanto vi ho appena detto, perché sicuramente siamo di fronte a due figure molto idealizzate. In questa che è la scultura, considerata una delle sculture più perfette di tutti i tempi, la Pietà Vaticana. Bisogna sempre specificare Vaticana quando si parla della Pietà, perché ne ha scolpite ben tre. E il tema della Pietà è un tema che accompagna tutta la vita di Michelangelo. Ne scolpisce ben tre. Una, in età giovanile, aveva 27 anni, era sotto i 30, comunque, la Pietà Vaticana, che lo rende famoso, una delle poche opere che lui firma, che è quella che abbiamo qui davanti, e che è ora conservata in San Pietro a Roma. La Pietà del Duomo, che lui, essendone scontento, prende a martellate, letteralmente. In questo ci c'è qualcosa sul carattere difficile, su una scontrosità di Raffaello, anche verso se stesso, la poca indulgenza, anche verso se stesso e verso gli altri. Un severo verso sé e anche verso gli aiuti, che non accetterà quasi mai. E l'ultima è la Pietà che lui scolpisce in punto di morte, la Pietà Rondanini, conservata al Castello Sforzesco di Milano. Ecco, quindi, un artista che abbandona la pittura perché si sente anzitutto scultore, inizia la sua carriera, viene notato in Vaticano immediatamente da Giulio II, che gli propone di preparare la sua tomba, cosa che lui fa, sì, sempre discutendo molto, allungando i tempi e creando molti problemi. Era un personaggio difficile da gestire. Ma parte e sviluppa la sua carriera come scultore. Ecco, per questa Pietà Vaticana che ci trova davanti, Michelangelo affronta anche il viaggio a Carrara, sceglie personalmente il blocco di marmo ed inizia quel percorso che lo porta a intendere le figure, come figure già contenute nel blocco di marmo, che lui libera, riporta alla luce. Quindi è come se, guardando il blocco, lui abbia già la visione della figura. Ecco, qualcosa di veramente geniale e sorprendente. Il passo successivo è, diciamo così, il passo successivo è il ritorno alla pittura. Ecco, il Papa insiste. Giulio II lo vuole, lo vuole anche come pittore. Michelangelo un primo tempo rifiuta, si tira indietro, proprio perché si sente scultore più che pittore. E poi accetta di affrescare prima la volta, quindi ecco, seguite il mio mouse, la parte, diciamo, del soffitto della Cappella Sistina, che è il luogo dove vengono eletti i papi, anche Francesco è stato letto qui dentro. Io, come prima immagine, ho scelto questa immagine che vi mostra l'ambiente perché vi fa capire come sono posizionate le opere. Quindi la volta della Cappella Sistina viene dipinta prima da Michelangelo, ecco questa parte qui, e ci sono i racconti del Vecchio Testamento, dopo vedremo dei particolari. Dietro all'altare, anni dopo, Michelangelo dipinge questa parte qui, che vedete, che ha come sfondo l'azzurro, che è il giudizio universale, quindi su due momenti diversi, anche nel racconto biblico, ecco, qui il Vecchio Testamento, quel giudizio universale, l'Apocalisse. Poi vedete questi riquadri, dove sta scorrendo il mio mouse, qui e qui, ecco qui ci sono opere importanti a freschi, tra cui Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, di grandissimi artisti dell'epoca, di grandissimi artisti dell'epoca che dipingono questi, affrescano questi riquadri dentro la Cappella Sistina, che ha a tutti gli effetti un luogo ricchissimo di preziose opere d'arte. Ecco così, qui avete un'idea di com'è la Cappella e di come sono sistemate le opere dei diversi artisti. Ecco, qui andiamo a vedere due particolari, anzi, un particolare della Volta e invece vediamo nella sua interezza il giudizio universale. Partiamo dalla Volta, che è la prima che il nostro dipinge da solo, dopo aver cacciato tutti gli aiuti. Il particolare della Volta lo vedete a destra. Aver cacciato tutti gli aiuti perché non era contento, quindi quando lavori con degli altri o ti accontenti di quel che fanno, anche se tu gli dici cosa fare, o se non ti accontenti mai, alla fine, ecco, gli aiuti se ne vanno. Ed è esattamente quello che succede a Michelangelo che si ritrova in solitudine a dipingere la Volta. Ecco qui vedete l'episodio della creazione di Adamo con Dio padre e Adamo qui a sinistra. Vedete, con questa famosissima immagine dove Dio dà la vita ad Adamo. Abbiamo in mezzo, abbiamo al centro, la creazione della donna che esce dal costato di questo Adamo addormentato e poi avete nella parte alta il peccato originale con, vedete, questo serpente, in parte serpente, in parte figura umana che porge la mela ad Eva che poi la darà ad Adamo. Ecco, a destra vedete, quindi, sempre seguendo il mio mouse, l'angelo che scaccia Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Vedete già, seppur molto in piccolo, e poi tutti i ragionamenti che vi faccio qui, li ritrovate poi anche in dei video dedicati dentro il sito, che naturalmente dovete andare a vedervi, vedete come questi corpi non sono i corpi armonici e eleganti o le figure femminili suadenti di Raffaello, ma sono corpi pesanti, corpi possenti, per sottolineare sempre l'espressività. Corpi che poi ritroviamo anche nel giudizio universale che ha al centro la figura di questo Cristo giudicante con a fianco la Madonna, abbiamo i beati nella parte alta del giudizio e in basso, eccoli qui, i dannati che precipitano verso il basso, vedete nello spigolo a destra il giudizio universale quella macchia arancione sono le fiamme dell'inferno, la porta dell'inferno dentro cui vengono trascinati i dannati da dei veri e propri demoni, dai diavoli che li prendono e li portano all'inferno. È una scena molto drammatica perché i dannati cercano di andare verso i beati e sono spinti a salire verso Cristo, ma ci sono degli angeli che li prendono letteralmente a pugni e li ricacciano tra le braccia anche se questi dannati chiedono pietà, li ricacciano tra le braccia dei diavoli che li portano poi all'inferno. Quindi è una scena estremamente drammatica, una scena che dà proprio l'idea di come il giudizio fosse qualcosa che lo stesso Michelangelo sentiva come un evento terribile, è un evento dove la decisione di stare in paradiso all'inferno era una decisione che come dire penalizzava crudelmente dei dannati che non erano stati capaci durante la loro vita di vivere secondo i precetti di Cristo. E tuttavia la rende anche addirittura con violenza perché gli angeli che colpiscono i dannati a pugni sono un'immagine molto forte, nuova per la storia dell'arte. Ecco, quindi una fede tormentata quella di Michelangelo come tutte le fedi profonde una fede che era piena di dubbi di domande e che si interrogava sia sul mistero della morte con le tre pietà perché la pietà è le tre pietà che lui scolpisce sottolinea fondamentalmente questo sentire il tema della morte. Qui si autoritrae Michelangelo ve l'ho fatto vedere in classe se ricordate ecco qui questo pezzettino qui ne abbiamo parlato in classe come San Bartolomeo cioè come un martire San Bartolomeo che era stato spellato vivo ecco quindi lui si rappresenta come uno spellato vivo quindi indubbiamente come una figura tormentata una figura tormentata quale era e la sua stessa qual era lui come artista e anche la sua stessa fede ecco abbiamo detto qui iniziamo a vedere i punti fondamentali lui usa il corpo come uno strumento espressivo e per questo ce lo mostra nudo e per questo ce lo mostra nudo lo vedete non perché come nella fornarina ci volesse far passare dei contenuti di tipo affettivo o sensuale anche erotico se volete ma perché esclusivamente come per i danzatori perché il corpo racconti una storia bisogna che il corpo si mostri non che il corpo sia coperto questo susciterà anche scandalo un po' subito ma in particolare dopo il concilio di Trento e si arriverà anche ad ipotizzare la distruzione di questi affreschi perché c'era un eccesso di inudità considerate peccaminose per fortuna si trova un compromesso andando a coprire alcune delle parti fondamentalmente genitali andandoli a coprire con dei veli il restauro ne ha tolti molti perché poi queste opere sono state restaurate se non sono rimasti quelli che non erano non potevano essere diciamo così rimossi naturalmente un restauro bellissimo come solo i restauratori italiani migliori del mondo sanno fare sugli affreschi che ha restituito diciamo così questi colori squillanti che caratterizzano tutta l'opera pittorica di Michelangelo infatti stiamo a vedere il tondo doni che il sole dipinto su tavola che ci ha lasciato il buon Michelangelo qua possiamo fare proprio un'analisi sui colori vedete sono colori complementari particolarmente vivaci con degli accostamenti appunto fra colori complementari come l'arancione e il verde vedete questa forza anche dell'azzurro a contatto con rosa che rende tutti questi colori molto forti figure molto dinamiche che si muovono nello spazio lo vediamo anche nel tondo doni con questa posa insolita con un Giuseppe anziano come era nella realtà anche del racconto biblico che tiene tra le braccia Gesù e la Madonna in primo piano con questa posa dinamica mentre sta per prendere il piccolo tra le braccia vedete anche qui di nuovo torno al discorso dei corpi come strumento espressivo vedete come i bicipiti della Madonna sono sottolineati e come Michelangelo trattava la pittura come fosse scultura perché dico questo in che senso nel senso che esagera i chiaroscuri li sottolinea tantissimo e l'effetto è quello che le figure dipinte saltino fuori dal quadro cioè se io esalto i chiaroscuri faccio vedere di più i volumi e come direste voi aumenta l'effetto 3D il chiaroscuro è quella cosa che dà l'effetto 3D che ci trasforma per esempio un braccio che fondamentalmente lo possiamo banalizzando schematizzare in un cilindro se io faccio dei chiaroscuri molto sottolineati come nel braccio della Madonna che vedete qui in primo piano ve lo evidenzio col mouse ecco qui il braccio della Madonna vedete queste zone scure così sottolineate anche guardate anche qui il vestito di Giuseppe scuro chiaro tutto molto sottolineato dà proprio l'idea della tridimensionalità e quindi della scultura come nei panneggi bellissimi panneggi azzurri nel vestito della Madonna ecco fra i suoi punti fondamentali l'ossessione per la morte l'abbiamo detta con le pietà e la forza emotiva e drammatica nelle sue opere l'abbiamo vista per esempio la forza emotiva l'abbiamo vista nel giudizio universale perché con quasi una drammaticità veramente mostruosa con i dannati che cercano di andare verso i beati e vengono rispinti dagli angeli verso l'inferno o anche nella cacciata la vedete la cacciata in alto qui di Adam e Deva la cacciata dal paradiso tra il resto sono scene molto drammatiche il corpo diventa lo strumento espressivo sia dello scultore che del pittore Michelangelo la scultura come una sfida con la materia perché abbiamo detto che lui liberava letteralmente ne parla di questo liberare le figure dal blocco di marmo poi lo si vede anche nei prigioni lo si vede anche nei prigioni se andate sul sito potete andare a vedere queste figure lasciate incompiute da Michelangelo dove proprio si vede che escono dal blocco di marmo quindi vi consiglio di esplorare il link sul sito che rimanda ai prigioni abbiamo visto il Michelangelo scultore con il David e con la pietà vaticana abbiamo visto il Michelangelo pittore con il giudizio universale e la volta della cappella sistina e anche con questo magnifico tondo doni andiamo a vedere il Michelangelo architetto il Michelangelo architetto in questa slide con le sue costruzioni più famose partiamo dalla biblioteca laurenziana qui la biblioteca medicia vedete questa scala e si può dire che una cifra del lavoro di Michelangelo sia la monumentalità pur in uno spazio non tanto grande come l'ingresso della biblioteca che si trova a Firenze il nostro riesce con questa scala a dare l'idea proprio di un ingresso monumentale importante e vedete anche bellissimo con questa scala particolare che sembra quasi una colata sembra quasi diventare qualcosa di liquido sembra una scultura quasi più che un'architettura ecco naturalmente nell'ultima parte della sua vita si dedica molto all'architettura naturalmente i papi a Roma ne hanno colto tutte le infinite qualità e gli affidano anche proprio il progetto di San Pietro e lui lascia un'impronta eccezionale anzitutto nella cupola che disegna e progetta di persona non la vede costruita perché muore prima pur avendo avuto una vita lunghissima a volte gli 80 anni che per l'epoca era assai assai e successivamente sul suo progetto saranno realizzati sarà realizzata la cupola che vediamo oggi a Roma dove si affaccia il papa per la sua messa quindi lascia questa costruzione importantissima la cupola di San Pietro non si limita a questo a Roma lascia altre importanti costruzioni la vediamo qui in basso vedete ve lo evidenzio adesso quando scompare la barra lo vedrete meglio il palazzo Farnese che diventa un modello dei palazzi novigliari romani questo monumentale palazzo Farnese presta l'ultima importantissima realizzazione di Michelangelo che è sicuramente la piazza del Campidoglia Roma la vedete qui dall'alto ho preso questa immagine perché vi fa capire com'è su un colle vedete c'è una grande scalinata che sale si arriva in questa piazza stupenda che al centro ha avuto per centinaia di anni la scultura di Marco Aurelio Cavallo che forse voi dovreste ricordare dall'anno scorso che è un'originale scultura romana arrivata fino a noi perché si era scambiato Marco Aurelio con Costantino quindi il primo altrimenti sarebbe stata fatta a pezzi oggi non c'è più l'originale al centro della piazza del Campidoglio ma c'è una copia l'originale perfetta molto ben conservato è all'interno di un museo ecco dove c'è la stella bianca al centro qui è sistemata la figura di Marco Aurelio Cavallo vedete questo disegno spettacolare della pavimentazione della piazza qui c'è l'edificio del Campidoglio il Campidoglio cos'è? è il municipio di Roma dove sta il sindaco di Roma attualmente la signora Virginia Raggi ecco qui dentro c'è il municipio di Roma e qui c'è questa piazza spettacolare con al centro la statua di Marco Aurelio anche qui costruisce un percorso monumentale con questa grande salita che sale verso proprio la piazza sul colle qualcosa di veramente molto bello quindi noi abbiamo un artista che ha affrontato l'architettura la pittura a suo mai grado anche se non si sentiva pittore abbiamo detto che abbandona la bottega del Ghirlandaio e viene scoperto proprio da Lorenzo Magnifico quando ne esce perché si è sempre sentito il nostro grande artista Buonarroti Michelangelo si è sempre sentito uno scultore uno scultore che in giovane età non ancora trentenne scolpisce questo capolavoro che è la pietà vaticana il tema della pietà che lui lo accompagnerà per tutta la vita non si limiterà a scolpire solo la pietà vaticana che abbiamo davanti ma anche la pietà del Duomo e l'incompiuta pietà rondanini da ricordare tra le sculture ricordiamo anche sicuramente l'importantissimo David che avete qui davanti conservato invece questo a le gallerie dell'accademia di Firenze che è stato un po' il simbolo di Firenze perché c'è un periodo in cui Firenze si ribella ai medici e proprio crea l'esperienza della Repubblica Fiorentina dove appunto David è il simbolo del piccolo che si oppone al gigante Goliano e tuttavia riesce lo stesso a sconfiggerlo non andrà come nella storia di Davide e Golia perché la Repubblica Fiorentina poi cadrà e i medici rientreranno ecco c'era questo aspetto del David come simbolo di Firenze ancora oggi una copia infatti del David di Michelangelo sta in piazza della Signoria a dire che è proprio il simbolo della città e rappresenta in un certo qual modo il sentirsi fiorentino come sentirsi indipendente da come sentirsi autonomo come sentirsi libero ecco abbiamo visto la figura di Michelangelo tutte le sue facettature abbiamo detto anche di un carattere tormentato della poca disponibilità a lavorare con gli aiuti con questa ci fermiamo di fronte alla figura del David ricordando che è stato sia scultore che pittore che architetto preparatevi naturalmente sulle opere che vedete qui sono quelle che io voglio sapere e ci rivediamo alla prossima grazie a tutti